Prima di iniziare la visione di questo video vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre. Tramite iscriviti, abbonati e il pulsante grazie avete contribuito a rendere grande questa realtà. Buongiorno e buonasera a tutti. Oggi iniziamo una nuova rubrica con la libreria esoterica Cavour che si intitola C'era una volta e ancora c'è. Già appena si dice c'era una volta cambia l'atmosfera, tutto si ovatta e chi richiama alla memoria qualche libro di favole, di quelli con disegni meravigliosi, con magari la prima lettera miniaturizzata, lavorata, chi si vede sulle braccia, sulle gambe di un nonno o ricorda a chi le ha lette. Ecco, richiama al mondo fatato, al mondo delle fiabe. Quello che a me richiama è un cerchio. Un cerchio da un racconto di una nonna che mi diceva che durante il periodo della guerra erano soliti trovarsi nella stalla di uno dei vicini che vivevano in campagna e a turno c'era qualcuno tra gli anziani che raccontava storie. Ecco, questo raccontare storie ci ha portato a iniziare questa rubrica perché attraverso le storie noi facciamo anima, attiviamo quel mondo magico creativo poetico che è in noi e che spesso viene silenziato. La nostra attenzione va lì, quindi c'era una volta e ancora c'è da dove partiamo? Dalla storia di un topino che voleva diventare una lodola. Questa storia è ambientata in un momento di una grande siccità in cui questo topino che stava cercando cibo e aveva cominciato a cercarlo in tutti i posti dove sapeva che era possibile trovarne. Si rassegnò, si rassegnò, vide che non c'era più speranza e che gli unici che secondo lui avevano una possibilità di sopravvivere erano gli uccelli che potevano muoversi di albero in albero e andare a prendere gli ultimi frutti rimasti. Pertanto scoppiò in un pianto inconsolabile e piangendo a dirotto, convinto che la fine fosse prossima, fece comparire una fata. Questa fata gli chiese perché stesse piangendo e lui rispose piango perché ho tanta fame e perché certamente questa è la fine. La fata disse guarda io topino posso aiutarti. Naturalmente c'è una prova da superare, tu che cosa vorresti? Pensa e dice ovviamente vorrei diventare una lodola, convinto così di sopravvivere. La fata disse sì io ti posso aiutare. Naturalmente appunto devi superare la prova, la prova consiste in questo. Lei preparò un fuoco, preparò un pentolone e mise qualcosa a cucinare. Il topino cominciò a girare attorno a questa pentola impaziente ma la regola era non puoi mangiare, finché non sarà preparato e finché io sarò tornata. Quindi io ricomparirò e tu potrai nutrirti e nel frattempo sarai diventato la lodola che vuoi diventare. E così fece. La fatina scomparì, lui cominciò ad attendere, più attendeva più la fame cresceva. L'impazienza pure girava attorno a questo pentolone fin tanto che si accorse che gli era spuntata un'ala e quindi le due parti di lui cominciarono a dialogare. Una diceva la fata si è sicuramente dimenticata, un'ala è già spuntata, tu puoi mangiare e l'altra parte ovviamente diceva no, io ho fatto la promessa, aspetterò che la fata ricompaia e quindi mi deciderò. E così continuando a girare si accorse che in realtà anche un'altra ala gli era spuntata e tutto questo dialogo continuò fino al momento in cui cedette e aprì il pentolone e mangiò. Ecco che in quel momento comparì la fata e disse ai ai topolino io ti avevo proposto una prova che tu hai accettato e non hai rispettato. Le ali le hai ma sei rimasto un topo, d'ora in poi le persone avranno ribrezzo di te, girerai soltanto la notte e ti chiameranno pipistrello. Ora, al di là dei pipistrelli che sono anche carini e hanno la loro medicina, questa storia ci parla di una metamorfosi interrotta, ci parla di una presunzione di completamento di un'esperienza prima che ciò sia accaduto, ci porta fuori dal completamento di un'esperienza di trasmutazione e ci cambia proprio la direzione del progetto. Anche la lodola è significativa in questa storia perché la lodola ha anche lì un valore simbolico importante. La lodola è tra i primi uccelli a cantare in primavera e ha un volo ascensionale, quindi sale, sale, sale quasi fino a scomparire nel cielo, il corpicino non lo vedi più e poi fa un canto con una successione di note e riscende quasi precipitando ma ovviamente senza toccare il terreno e ripartendo. Quindi la simbologia è quella della connessione tra il cielo e la terra e anche della ressurrezione perché c'è appunto questa ripartenza. È un uccello che come simbologia viene associato anche ad Artemide, quindi Artemide ha un'energia molto legata all'uno e ci piaceva, fosse la prima storia. Perché una metamorfosi interrotta portata in questo momento? Perché ci stiamo avvicinando a un anno, 2023, che è ricondotto all'unità e sapete che ci arriviamo facendo la somma delle singole cifre che compongono un numero. Quindi in questa riduzione teosofica, così si chiama, 2 più 0 più 2 più 3 ci dà 7. Ha un significato anche 2 e 3, il cui totale è 5. 5 e 7, e qui abbiamo proprio dedicato un video interamente al significato del 5 e 7 come momento del perno, c'è un punto di passaggio. quindi è come se il prossimo anno venisse richiesta un'attenzione particolare al compimento di una metamorfosi, all'attesa del giusto tempo e quando si tratta di lavoro interiore non solo non c'è la possibilità di delega di questo lavoro. Certo lo posso fare nel mondo fisico, nel piano fisico, sto facendo un trasloco, un amico che mi aiuta a spostare dei pesi. Lo posso fare nel piano di questo tipo di aiuto, ma quando si tratta di lavoro interiore non ci sono scorciatoie, non ci sono deleghe, tocca a noi farlo. Bene, in quell'anno in cui le due energie attive sono 5 e 7 e sono due numeri che hanno come relazione proprio qualitativa dell'energia la relazione con la ricerca, con la religiosità, laddove religiosità sta nel rilegarsi alla propria divinità interiore, a quella emanazione che è in noi, di quel divino che attraverso noi sta facendo quel tratto d'esperienza terrena per poi rimandarla alla fonte prima, alla sorgente prima. Così ciascuno di noi ha la possibilità, se lo vorrà, di portare la propria attenzione nella direzione del vegliare sul proprio lavoro interiore, sulla propria metamorfosi, portando avanti questo passaggio con umiltà per poter veramente essere una lodola e non restare in una posizione intermedia. Ci vediamo la prossima volta con un'altra storia e un altro messaggio. Buona serata. Puoi fare la somma 2 più 0 più 2 più 3 e otteniamo 7. C'è un altro sistema di riduzione che è la somma del 20 più 23. Non perderti i video speciali di questa settimana con le domande in risposta ai nostri relatori. Quindi c'è un senso di dove si trova il numero. Ce lo sta dando da 43. Allora un'altra attenzione che possiamo portare e dove va la nostra attenzione e lì va la nostra energia è fare in modo che non sia il 4 dominante rispetto il 3. Laddove 3 è il numero dello spirito, 4 il numero della materia. Potrebbe dominare la materia rispetto allo spirito. Ovvio il progetto è l'equilibrio perché il 7 in sé li contiene in perché è così pieno. È come numero. Questo video continua nei contenuti per abbonati dove potrai trovare tante rubriche interessanti in più. Abbonarsi è un modo per sostenere la libreria. Grazie per la tua amicizia.